Da non perdere assolutamente è la personale di pittura e grafica in esposizione al castello di Agropoli dal 16 agosto fino all'ultimo giorno del mese della pittrice Rosa Cianciulli. La mostra si intitola Introspezioni ed ha il patrocinio del comune di Agropoli. Divisa in cinque sezioni, donne, paesaggi, l'orrore di Lovecraft, alberi e colori, crea un narrato introspettivo ed intimo di un artista che attraverso il segno e il sogno indica possibili percorsi all'interno della bellezza come rimedio assoluto al disagio di vivere. Un disagio soprattutto femminile nato troppo spesso dalla violenza subita, una violenza alla quale la Cianciulli risponde con fitte ragnatele e fornendo un paio d'ali di farfalla alle esili presenze di donna. Come se bastasse, come a fornire un sollievo, come se il sogno trovasse la realtà nel segno grafico forte, nero, definito o nelle tinte scintillanti degli acrilici, come se l'arte stessa potesse essere, com'è la medicamentosa risposta.